Ciao Simona, stanotte ho fatto un sogno stranissimo. Ciao, raccontami dai. Ero in spiaggia e c'era un sacco di gente. Ah, era una festa, un bel sogno allora. Sì, cioè, no, cioè, boh. Succedeva una cosa strana. Se io mi appoggiavo le mani sui fianchi e guardavo una persona, questa si innamorava subito di qualcuno. Avevi le frecce di Cupido allora? No, avevo le maniglie dell'amore. Ciao amici, oggi come promesso vediamo insieme cosa si dice sul dimagrimento dei fianchi e sulle famose maniglie dell'amore. Ma poi per quale motivo si chiamano maniglie dell'amore? Forse per il motivo del mio sogno? No, non credo. Anzi, alla fine del video vi svelerò una notizia scioccante. Speriamo che sia buona questa notizia. Certo, è ottima. E ve ne voglio dare un'altra subito. Contrariamente a quanto si pensa le maniglie dell'amore, i fianchi morbidi e anche la pancettina tonda hanno un posto indiscusso nell'Olimpo del fascino per donne e uomini. Se parliamo di uomini, il fenomeno pancetta è diventato virale già dal 2015 con la nascita del termine dead body, che deriva dalle parole americane dead, papà, e dead body. Che corpo! Fisico da papà, insomma. Cioè, in forma, ma senza esagerare. Al posto di addominali scolpiti e fianchi perfetti, un po' di pancetta tonda e le famose maniglie dell'amore. Da Leonardo DiCaprio a Channing Tatum, sono diversi i sex symbol che in estate sfoggiano senza vergogna il loro dead body. Sì, ma per gli uomini è sempre più facile. Per noi donne, Simo. Tranquilla, per noi c'è la rivincita delle curvi. Come ho spiegato in questo vlog sulla prova costume, finalmente si stanno superando quei canoni estetici irrealistici che ci vorrebbero tutte magre come uno stecchino. E proprio noi possiamo fare la differenza per superare questa assurdità. Impariamo a volerci bene e a valorizzarci per come siamo. Saremo più sicure di noi stesse, avremo più fascino e carisma, e meno ansia e stress, inutili perché autoprodotti. Comunque, per tenervi in forma in modo naturale, trovate tutti i miei consigli estivi nella playlist in descrizione qui sotto. E poi facciamoci ispirare dalla nostra amica curvi, Ashley Graham. E se qualcuno ci snopa? Peggio per lui, non sa cosa si perde. Esatto, brava! E se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per seguire tutti i miei nuovi video, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così. E attivate la campanella delle notifiche. Ma ora ci dici qual è la notizia scioccante? Certo, eccola qui. Diversi sondaggi fatti su donne e uomini hanno dimostrato che quando si parla di attrazione, il fisico perfetto è preferito solo per esperienze mordi e fuggi. Ma scusa, non doveva essere una buona notizia? Sì, ecco, la buona notizia è questa. Il fisico più morbido, invece, viene preferito decisamente per scambiare affetto, abbracci, coccole e fusioni e piacere a lungo termine nel tempo. Bello, no? Allora condividete questo video, così tanti amici e amiche quest'estate saranno più sereni. Comunque, domenica vi svelerò i miei segreti per dimagrire i fianchi e valorizzare le maniglie dell'amore. Sì, e non la ciambella! Bene, vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao! Sì, e non la ciambella!